Musica Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a Occhio ai Giornali come tutte le mattine in diretta su Fano TV dalle 7.30 in poi dal lunedì al sabato sfogliamo insieme i giornali quotidiani naturalmente in edizione locale, il resto del Carlino e Corriere Adriatico però prima guardiamo sempre l'almanaco del giorno e poi il santo del giorno e facciamo così anche questa mattina, vediamo oggi sabato 30 settembre San Girolamo, sacerdote, il sole è sorto alle 7.04 e tramonterà alle 18.52 guardiamo il tempo, il tempo che si preannuncia almeno secondo le previsioni della protezione civile è abbastanza sereno e stabile quindi per oggi vedete poco nuvoloso più che altro sui rilievi, attività più cumuliforme appunto sui rilievi le precipitazioni però non ci saranno e le temperature abbastanza stazionarie anche per domenica sereno o poco più nuvoloso, nessuna precipitazione però le temperature diminuiranno nei valori minimi e in aumento anche i massimi quindi si allunga, allarga la forbice mare quasi calmo però compare vedete la simbologia della nebbia sulle zone interni quindi durante le ore notturne, il primo mattino formazione di foschie nei fondovalle per lunedì uguale, scusate anche qui sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione temperature stabili quindi dovremmo avere un fine settimana abbastanza regolare dal punto di vista meteorologico, sapete che a Fano c'è, Fano fiorisce, la festa dei fiori quindi insomma se avete necessità di acquistare fiori per l'autunno Fano in questo momento vi offre uno spettacolo impagabile al Pincio bene, partiamo con i giornali, guardiamo le aperture dei due quotidiani partiamo dal resto del Carlino di Pesero vediamo come titola, la pagina e la fotonotizia in apertura è tutta dedicata al traffico e al caos che si sta creando in alcune ore della giornata nei pressi di Via Milano nel quartiere Tombaccia si cercano percorsi alternativi statale da Gimcana e poi in testa di pagina medium di Sant'Angelo decisivo è morto dietro un muretto ritrovato l'anziano scomparso da giorni ad Ancona e di fianco poi altri due lanci a Cagli per cronaca donna investita vicino all'ospedale è portata in elicottero ad Ancona e poi venduto all'asta un immobile sarà lo sfratto a ridurre i migranti a Pozzo venduto all'asta appunto l'immobile che li ospitava guardiamo invece come apre il Corriere Adriatico un'apertura completamente diversa si punta alla sanità si parla di Marche Nord questo è un articolo che troveremo anche nel resto del Carlino e poi Anziana Badante travolta in centro una novantenne in carrozzina muore i soccorsi l'investitore ha chiamato i soccorsi quindi aperture completamente diverse e poi si parla anche di Urbino con un'opera di Raffaello che spunta negli Stati Uniti vediamo da Fano che cosa ci raccontano i quotidiani partiamo con il resto del Carlino per Fano si parla di Lisippo nuovamente il processo il legale del museo entra in un terreno dedicato un accordo è possibile gli americani dicono da noi lo vedono due milioni di persone all'anno Fano a Fano sarà altrettanto? vediamo voi datecelo e poi vediamo cosa riusciamo a fare caso dell'aeroporto Massimo Ruggeri amministratore della società Precisa e Replica a Santorelli l'arbitro ha negato 300 mila euro di risarcimento ieri c'era un articolo sul resto del Carlino appunto sulla vicenda dell'aeroporto e Ruggeri ha replicato a questo articolo Fano sempre per il resto del Carlino passa il progetto di un'azienda bolognese per il parco urbano è lo studio Silva che ottiene il 100% del punteggio critiche però dai 5 stelle sulla metodica di scelta e anche un'altra pagina che riguarda la sanità entroterra in difficoltà per tagli e posti letto ovunque grandi disagi per le lunghe liste d'attesa i pensionati CISL chiedono più certezza su ospedali e servizi e poi eccolo qua taglio del nastro ieri a Fano Fiorisce tutta l'amministrazione il sindaco in prima linea l'assessore Cecchettelli che hanno tagliato il nastro millocolori della città in fiore al via la mostra mercato vetrine anche da votare attraverso questo coupon che trovate appunto sul resto del Carlino potete votare la vetrina più bella le vetrine in centro sono bellissime sono tutte addobbate fatevi un giro perché meritano veramente il Corriere Adriatico anche qui vicenda dell'aeroporto in primo piano revoca senza giusta causa ma nessun risargimento esito salomonico dell'odo arbitrale intrapreso da Luga Santorelli contro Fano Fortuna e anche qui nell'occhiello la replica di Ruggeri non è stata approfondita la questione della correttezza del bilancio ancora si parla di cronaca e di purtroppo episodi spiacevoli nel Corriere Adriatico andiamo alla stazione per atti di vandalismo scarsa monotenzione i passeggeri temono per la sicurezza una delle cinque crepe nella vetrinetta della pensilina la vedete qui nella foto i passeggeri e i frequentatori hanno paura di farsi male in questi luoghi andiamo nella pagina che riguardano Fano Pesaro chiedo scusa per il resto del Carlino appunto nel lancio della prima pagina c'era questa apertura si parla di migranti sfrattati a Pozzo gli immobili sono andati all'asta venduti ieri dieci appartamenti al costo medio di 20.000 euro qui la palazzina vedete nella fotografia e a destra l'infuocata riunione dei residenti a Borgo sanità dicevamo che sanità trattata da tutti e due i quotidiani e vediamo appunto sanità che cambia Marche Nord in linea con una crescita piena il direttore generale Capalvo snocciola i dati sull'attività la regione ne deve tenere conto il rapporto il budget aziendale è passato da 216 milioni nel 2016 a 230 milioni di quest'anno anche il Corriere Adriatico tratta di questo argomento e anche qui come fa sempre snocciola tutta una serie di dati e statistiche per aiutare il lettore a comprendere meglio di che cosa stiamo parlando Marche Nord inverte il trend e attrae anche da fuori provincia quindi mobilità passiva all'inverso insomma un dato positivo si parla anche di sanità ma sotto un altro aspetto nel Corriere Adriatico la vicenda del bambino di Cagli morto per una le conseguenze di un'ottite trattata solo con l'omeopatia il medico ha avuto una sospensiva dall'ordine e adesso dopo 30 giorni da questa sentenza c'è insomma l'azione dei legali di Mecozzi qui nell'articolo lo vedete i legali ricorrono contro la sospensione dell'ordine l'avvocato Piazza dice si potevano attendere i risultati delle indagini della procura di Urbino per esprimere questo giudizio da parte dell'ordine dei medici queste le considerazioni dei legali di Mecozzi un altro argomento che avete visto nel lancio di apertura sul resto del Carlino che riguarda Pesaro è appunto la presenza di una nuova rotatoria di una giratoria poche altre in questo momento nei pressi di via Milano che sta destando insomma qualche apprensione vi faccio vedere le due pagine eccole qua del resto del Carlino la 4 e la 5 che appunto trattano di questo argomento auto a passo d'uomo ambulanze contro mano però Ricci è ottimista dice la rotatoria è un buon esperimento eccola qua la vedete qui con un camion un camion che si sta prestando a prenderla però vedete anche qui auto ambulanze contro mano perché insomma non ci si riesce a passare è un momento naturalmente questo sempre come avviene quando c'è una nuova regolamentazione del traffico di una zona grigia gli utenti si devono un attimino abituare andiamo nelle pagine di Urbino nelle pagine che riguardano la città Ducale si parla anche qui di cronaca travolto sulla circolambalazione vita rovinata sopra Michelangelo Rossi sessantenne residente nell'Ateneo dipendente dell'Ateneo ancora in ospedale dopo l'incidente del 18 scorso un marciapiede dice mi avrebbe salvato qui vedete il punto dove è successo praticamente non c'è spazio per i pedoni il drammatico racconto di Michelangelo mesi di cure in vista per lui insomma una situazione che possiamo definire sicuramente sicuramente un mezzo calvario insomma ad Urbino invece per il Corriere Adriatico si parla di un altro argomento si parla di arte la Madonna di Santa Chiara spunta l'ipotesi di un Raffaello saggio di Anna Fucili ricostruisce i passaggi da Urbino agli Stati Uniti d'America del dipinto delle monache guardiamo un'altra pagina del Corriere Adriatico che riguarda Urbino il Montascale per insomma una di cronaca il Montascale ha ceduto lei muore dopo la caduta vittima una pensionata di Montefelcino e scatta il sequestro di questa attrezzatura e poi a Sant'Angelo in Vado carabinieri sempre a caccia e con azioni mirate per il contrasto del lo smercio e la coltivazione di stupefacenti coltivavano marijuana nella serra del Gran Turco i carabinieri arrestano marito e moglie a Sant'Angelo in Vado vediamo dalla Val Cesano che cosa ci riporta il Corriere Adriatico andiamo a Mondolfo passa il sì revisione alle partecipate assise convocate in 48 ore il decreto del giugno 2017 imponeva una scadenza limite al 30 settembre questo dice il sindaco Nicola Barbieri sulla delibera relativa alla quota del comune in Aset il Movimento 5 Stelle però vota con la maggioranza andiamo nell'ultima pagina che vi propongo quella di Senigallia quindi vediamo cosa accade nella città della spiaggia di Velluto anche qui cronaca blitz della polizia negli uffici comunali nel minimo c'è la gestione della piscina cinque investigatori hanno acquisito documentazione sull'affidamento diretto dell'impianto delle saline nell'ispezione alla ex GIL è stato chiesto l'accesso agli atti relativi anche ai servizi di altre competenze salviamo la pinettina basta tagliare gli alberi l'appello lanciato con una petizione dagli abitanti dai cittadini che si mobilitano per salvare la pinettina della stazione la vedete qui in questa foto non si vede molto bene chi conosce Senigallia sicuramente sa di che cosa stiamo parlando vicino alla stazione a fianco sulla destra tra l'hotel e la stazione c'è una pinettina dove si parcheggiano anche le auto davanti e insomma c'è qualcuno che dice perché buttare via mare e tutto segare questi alberi per farne un parcheggio hanno raccolto le firme insomma un piccolo polmone verde nella città non fa mai male bene questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere ultima notizia Occhio ai giornali torna a lunedì mattina puntualmente alle 7.30 sempre qui un caffè insieme a voi e sfogliando le notizie grazie per essere stati in nostra compagnia un buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti